benvenuti benvenuti alla puntata di oggi stampa evangelo è una puntata speciale perché è la puntata del nostro appello al voto ed è tutto elegantino mettiamo pure il bottone facciamo finta di essere persone da campagna elettorale e grazie una prima parola è grazie perché la fatica di questi giorni è enorme l'ho vissuta sulla pelle so quanto sia costato a ciascuno di voi fare questo percorso è un percorso che non è durato un mese dura da anni da molti anni e oggi arriva qualche compimento non è un traguardo lo dico subito dopo il 4 marzo ci sarà il 5 marzo e ci metterebbero subito a lavorare per le elezioni regionali del 22 aprile che avremo le regionali da fare come popolo della famiglia il 22 aprile in molise credo anche in fiuli venezia giulia avremo le amministrative di giugno a teramo piuttosto che a treviso piuttosto che a brescia avremo moltissimo da fare subito dopo con una novità che sarà noto il nostro livello di consenso sapremo quanti siamo questa è la novità la risposta che ci attendiamo dal 4 marzo quanti siamo devo raddrizzare un po forse devo raddrizzare un po ecco qua quanti siamo siamo 50.000 siamo 100.000 oppure addirittura siamo centinaia di migliaia il popolo della famiglia è davvero un popolo si conta in centinaia di migliaia questo è il punto interrogativo e la risposta arriverà dalle urne il 4 marzo so che vi aspettate delle risposte magari puntute magari polemiche oggi davanti a l'offensiva davvero ignobile di alcune persone sono però persone hanno un problema di livore che hanno un problema di invidia che vedono un popolo andare sorridendo alle urne e sono molto infastiditi da questo e allora attivano cosa quella cosa orrenda che è la campagna contro la campagna contro fatemi dire che poiché è diventato molto difficile fare campagna contro il popolo della famiglia per i suoi argomenti che sono da tutti giudicati oggettivamente buoni allora la campagna diventa una campagna contro le persone segnatamente contro il sottoscritto ma tranquilli ho imparato in questi anni a non essere permaloso mi hanno allenato le pagine lgbt che ogni giorno sfornavano pagine di insulto nei miei confronti ora lo stesso tipo di argomento lo stesso tipo di linguaggio lo stesso tipo di livore lo sento pure da parte del fuoco amico vuol dire che stiamo andando bene vuol dire che stiamo andando bene non fatevi prendere in queste ore dalla ansia dell'attacco ripeto che è di alcune persone che hanno interessi specifici e circoscritti che come si sono venduti gli amici al family day del 2016 così si stanno vendendo ciò che non hanno mentendo trovando poi lettere di richiamo all'interno anche i loro movimenti ecclesiali di smentita quindi non non agitatevi per questo pensate solo ora al bene del popolo della famiglia che è il bene dell'italia noi tutto questo lo abbiamo costruito per il bene dell'italia il voto al popolo della famiglia è un po è un voto per tornare a investire sulla famiglia naturale per tornare a vedere questo popolo riempirsi di figli abbiamo scritto il programma più bello che si possa trovare è assolutamente incontestabile reddito di maternità quoziente familiare la famiglia come impresa il la riforma scolastica basata sui costi standard della libertà educativa è davvero un programma meraviglioso vi invito a rileggere il decalogo della buona battaglia le dieci card dieci carte che abbiamo messo sul sito www.ilpopolodelafamiglia.it e noterete quanto è davvero bello denso ricco questo nostro programma fatemi ringraziare di nuovo la commissione programma fabio torriero giuseppe brienza eh paolo buonaiuto e giuseppe focone hanno fatto un lavoro davvero incredibile straordinario fatemi ringraziare quelli che dall'inizio hanno sopportato la fatica gli attacchi già franco amato il nostro segretario nazionale nicola di matteo che ho visto che ha appena annunciato alle quattro e mezza la chiusura eh in sicilia siamo sparsi negli angoli d'italia nicola chiude alle quattro e mezza in sicilia eh Gianfranco stasera chiude a Verona io personalmente chiuderò con voi se volete a Roma all'hotel nazionale che sapete dov'è è a piazza Montecitorio perché il nostro obiettivo è un obiettivo di governo del paese è un percorso vedremo quanti siamo il quattro marzo speriamo di entrare subito in Parlamento ma è senza ombra di dubbio l'avvio di un percorso che durerà nel tempo dicevano che i cattolici cristiani di questo paese le persone di buona volontà che volevano difendere i principi essenziali e quindi non negoziabili fossero ormai spariti o condannati alla diaspora da lunedì sera sarà evidente che un popolo estremamente consistente esiste in Italia e ha un soggetto politico di riferimento questo soggetto politico è il popolo della famiglia che ha dunque già anni di vita alle proprie spalle e avrà altri anni di vita davanti per compiere tutto il percorso mi stanno tutti dando le varie chiusure Alberto Agus chiude con la Sardegna alle 10 e 30 Mirko chiude a Pistoia penso che Mirko De Galli abbiamo una chiusura a Nimola Torriero chiude a Perugia e poi a Terni adesso non farò l'elenco alle 16 c'è Napoli al Grandotello Oriente ve lo leggete in chat oggi fatemi dire me lo chiedo davvero col cuore di sentirvi tutti parte di sentirvi tutti parte di un popolo che sta camminando davvero in maniera identica a Verona come a a a Palermo e in ogni angolo d'Italia c'è un popolo che muove i suoi passi e che non si è fatto intimidire voi non vi siete fatti intimidire vi hanno fatto di tutto ma non vi siete fatti intimidire oggi non è la chiusura della campagna elettorale lo ricordo a tutti oggi forse comincia la fase determinante sentire tutti i nostri contatti mandare un email un messaggio whatsapp col simbolo come si vota dei messaggi brevi non fate le prediche messaggi brevi che chiedono personalizzati che chiedono ai vostri amici ai vostri contatti ai vostri conoscenti il voto al popolo la famiglia domenica 4 marzo dalle 7 alle 23 quindi mi raccomando non pensate che adesso ci riposiamo due giorni anzi adesso comincia probabilmente tutta l'attività e la politica che va compiuta per fare cosa lo ha spiegato molto bene avvenire ieri miracolo una pagina di avvenire che ha spiegato pienamente qual è la nostra battaglia andiamo all'attacco del 3% andiamo alla costituzione di questo popolo con coraggio con orgoglio con umiltà ma sapendo che il nostro ruolo è fondamentale per richiamare persone dall'astenzionismo per richiamare consensi in uscita dal movimento 5 stelle dal centro sinistra certo anche dal centro destra siamo competitivi questo è ovvio siamo alternativi sul nostro manifesto c'è scritto l'alternativa c'è perché alternativi perché esiste un solo movimento politico che è conseguente rispetto alle grandi mobilitazioni del femmini dei è molto semplice siamo andati in piazza a san giovanni con i nostri figli siamo andati al circo massimo facendo mille chilometri magari mille cinquecenti in un solo giorno per dire no a una legge che era contro la famiglia la legge cirinna e c'è un solo movimento che dice la legge cirinna va cancellata un solo movimento politico è il popolo la famiglia non ce ne sono altri altri movimenti oggi c'è anche un'intervista di salvini la danno per acquisita la legge cirinna dicono che già lì ormai è legge dello stato va rispettata come dice giorgia meloni la legge sul bio testamento 630 20 diritti alla camera solo 37 voti contrari la considerano legge dello stato ormai è lì non la vogliono cancellare c'è un solo movimento politico che ha nel programma la cancellazione della legge sul bio testamento si chiama popolo della famiglia se si è andati in battaglia si sono fatti quei chilometri per affermare che sbagliato è sbagliato c'erano quei bei cartelli sbagliato è sbagliato allora la conseguenza l'unica conseguenza è il voto al popolo della famiglia che dice quelle leggi sbagliate vanno cancellate tutti gli altri movimenti politici berlusconi lo immaginate la quarta gamba non ne parliamo qui sono arrivati a chiedere il voto alla quarta gamba che è zeppa di traditori del femmini dei maudizio lupi ministro costa tosi zanetti non so l'elenco è infinito sono arrivati a chiedere persino il voto a loro piuttosto che non darlo a noi cioè a chi ha tradito platealmente la piazza del femmini dei molto semplicemente si sarà conseguenti se ci si è battuti per quello si è considerato quella un'urgenza al punto di andare in piazza c'è un solo movimento politico che propone l'abrogazione di quelle leggi e propone leggi per la famiglia per la cultura della vita contro l'aborto contro l'eutanasia un solo movimento politico e dunque il voto non può che essere conseguentemente dato a chi è figlio di quell'esperienza non solo perché i soli candidati provenienti da quel palco sono presenti nel popolo della famiglia con la disgraziata eccezione di uno che si è andato a fare mettere quarto nella lista guidata da giulia buongiorno cioè da un nemico del femmini dei da un nemico della cultura della vita a un nemico della famiglia naturale quindi parte quella disgraziata eccezione tutti quelli che erano sul palco e sono candidati a queste elezioni sono candidati nel popolo della famiglia ripeto l'unico movimento che ha nel programma l'abrogazione di quelle leggi per cui ci siamo mobilitati è il popolo della famiglia ma dirò di più l'unica possibilità per mandare il centrosinistra all'opposizione definitivamente in questo paese è l'ingresso in parlamento del popolo della famiglia altrimenti ci saranno le larghe intese ieri persino grasso si è detto disponibile a fare il governo col centrodestra e col berlusconi persino grasso state tranquilli ci verranno a chiedere scusa a quelli che non hanno votato pdf il 4 marzo ci verranno a chiedere scusa in ginocchio per non aver per non aver colto la straordinaria e storica occasione di voltare pagina nel nostro paese ci chiederanno scusa ci chiederanno scusa perché vedranno è questione di settimane se non dovesse esserci il popolo la famiglia in parlamento materializzarsi governi di inciuci di larghe intese che non potranno far altro che proseguire sulle norme di morte fare per prima la legge buongiorno scalfarotto perché il ministro buongiorno sarà di grazia e giustizia vedrete vedrete noi metteremo un veto a giulia buongiorno al governo se entreremo in 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 parlamento e potremo dare elementi determinanti per fare questo altrimenti è già scritto è il ministro guardasigilli è già scritto è stata nel team degli avvocati eh di Gianfranco Fini Berlusconi quindi figuriamoci Fausto Coppi il suo padre spirituale a tuttora ehm l'avvocato di Berlusconi la buongiorno vuole fare la legge sull'omofobia si è già sbracciata per questo faranno la legge buongiorno scalfarotto per noi sarà la fine dei giochi la fine lo ripeto ci chiederanno scusa per non aver colto la straordinaria occasione ma per fortuna saranno pochi perché chi ha intelligenza delle cose il 4 marzo va a votare popolo della famiglia ha ragione Stefano Tommaso e Paolo Coppi Paolo non Fausto come si chiama Franco Coppi Franco neanche Paolo abbiamo sbagliato tutti e due Stefano si chiama Franco Coppi dunque deve essere chiaro questo elemento noi oggi stiamo dando una straordinaria occasione all'intero popolo italiano di voltare pagina chiudere la stagione delle larghe intese aprire una nuova stagione oppure si aprirà la logica dei governi di Inciucio con un po' di legge scalfarotto un po' di legalizzazione della prostituzione come Salvini che giura sul Vangelo ma vuole le donne sfruttate dal papponaggio di Stato un pochino incoerente vedete noi sappiamo forse poca cosa ma questa rubrica si chiama Stampe Vangelo l'avete letto il Vangelo di oggi? Il Vangelo oggi è il Vangelo della pietra scartata la pietra scartata dai costruttori che è diventata testata d'angolo e noi siamo stati un po' trattati così no da pietra scartata malmenati quasi uccisi il Vangelo di oggi è molto truculento ma siamo qua ma siamo qua siamo certi che il Signore nostro il Signore nostro adesso scaccerà i cattivi i malvaggi i bastonitori dei suoi servi ora la pietra scartata può diventare davvero testata d'angolo ancora una volta l'illuminazione la forza la raggiungiamo tramite la nostra fede non sono le nostre proposte proposte si rivolgono confessionalmente ai cattolici sono leggibili e comprensibili da tutti capiscono tutti che sono proposte più che ragionevoli non serve la fede per fare questa battaglia serve la fede perché gli attacchi sono talmente pesanti lo so che arrivano gli attacchi video vedo che citate alcuni disinteressati disinteressatevi disinteressatevi alle parole di singole persone che ormai sono completamente delegittimate ci sarà un popolo a materializzarsi il 4 marzo nelle urne e sarà il popolo che avrà votato popolo della famiglia chi sceglie adesso il compromesso il male minore sa che scegliere il male minore significa scegliere il male comunque se c'è la possibilità di scegliere il bene e tu scegli il male fai una scelta evidentemente sbagliata sbagliata su un piano etico morale sbagliata sul piano politico perché ti sei battuto per non far arrivare delle leggi che sono arrivate e non sostieni chi vuole cancellare quelle leggi ma anzi sostieni coloro che già hanno detto che si pongono in continuità con quella legislazione è davvero completamente incomprensibile se non su un piano sul piano del livore personale dell'invidia personale del malmostio che si agita nello stomaco mentre invece in questo momento bisogna essere seri calmi razionali guardare alle cose come stanno c'è una enorme occasione storica il voto al popolo la famiglia è un'occasione storica di far uscire dalla diaspora e dalla totale irrilevanza i cristianamente ispirati in questo paese coloro che vogliono difendere i principi essenziali e quindi non negoziabili e farli diventare protagonisti del lagone politico togliendoli da quell'irrilevanza in cui purtroppo l'insipienza politica li ha cacciati persino dopo le due clamorose manifestazioni mal gestite evidentemente del 2015 e 2016 ora bisogna far contare questo popolo e per farlo contare dobbiamo contarsi nelle urne cioè un rimprovero no le minoranze non si fanno contare è il rimprovero di chi gioca in blef fatevelo dire al pokerista è il rimprovero di chi non ha persone chi non ha popolo non ha nessuno e allora non può farsi contare non deve farsi contare ma chi è popolo deve fare questo tipo di lavoro deve rischiare certo che è un rischio deve fare fatica certo che è fatica dicono non riuscirai a entrare in parlamento può essere ma avremo avviato un percorso magari prendiamo il 10 per cento ci svegliamo con 80 parlamentari ma comunque il percorso è irreversibile si esce dalla diaspora si esce dall'irrilevanza si entra in una dimensione in cui siamo popolo con un perimetro già ben presente circoscritto fin dal 4 marzo capace dunque di pesare nelle logiche interne al mondo cattolico e ovviamente sul piano delle logiche politiche generali e le faremo pesare subito quei voti subito alle amministrative delle del 22 aprile nelle regionali del molise subito alle regionali del friuli venezia giulia subito a treviso subito a brescia subito a teramo vedrete quanto peseranno i nostri voti perché il cammino a quel punto sarà irresistibile perché a quel punto anche un piccolo patta piccola pattuglia che comunque è composta da centinaia di milioni di voti è in grado di determinare gli equilibri di questo paese dunque noi mettiamo il popolo della famiglia al centro degli equilibri politici con l'obiettivo di renderlo determinante chi vota popolo della famiglia non dà un voto utile dà un voto determinante fatemi salutare ania golezinovska l'amica di cuori puri i tantissimi tantissimi militanti qui presenti non vi faccio l'appello uno per uno perché questo video credo che circolerà un po anzi vi invito già a fare il condividi sulla vostra pagina mi piace la diretta ora diamo forza a questo nostro lavoro in queste ultime 48 ore non sono le ore del riposo sono le ore della manifestazione finale di campagne elettorali in ogni città a roma lo ripeto ci vediamo a piazza montecitorio perché deve essere di buon auspicio proprio accanto alla camera all'hotel nazionale e poi facciamo questi due giorni ventre a terra senza farci intimidire da queste persone da queste persone che ripeto sono singoli che cercano però di essere così velenosi di insinuarvi il dubbio hanno perso gli argomenti contro il popolo della famiglia allora fanno i dossieraggi sulle cose che ha detto Adinorfi dieci anni fa roba divertente se non fosse un po' triste lo ammetto un po' triste ma poteva essere una serena campagna elettorale ognuno a spiegare le ragioni per cui bisogna votare ognuno per i propri simboli alcuni hanno deciso di farla diventare una campagna contro ma noi non ci adegueremo a questo stile non faremo la campagna contro noi faremo in questi due giorni solo la campagna per il popolo della famiglia per le ragioni fondanti del popolo della famiglia perché solo votare il popolo della famiglia è in continuità con la mobilitazione di piazza dei femmini dei dove si andava a chiedere l'abolizione dalla ferro lo stop alla legge Cirinna e oggi solo il popolo della famiglia ne chiede la cancellazione perché solo noi chiediamo la cancellazione la legge sul biotestamento gli altri non c'erano in parlamento neanche quando si votava questo tipo di provvedimento siamo la prosecuzione di quel percorso finalmente con un perimetro politico e siamo quelli che possono fare concretamente il reddito di maternità possono fare concretamente il consiente familiare possono fare la riforma scolastica lo possiamo fare basta avere quei consensi necessari entrare in parlamento condizionare la maggioranza e lo sapete che lo faremo faremo solo gli interessi di chi ci ha votato e al primo consiglio dei ministri faremo varare il reddito di maternità mille euro alle mamme che vogliono restare a casa con la famiglia perché noi riconosceremo e faremo riconoscere al paese che una mamma è assolutamente una donna di serie a come qualsiasi altra lavoratrice non esistono donne di serie b mai che mai una mamma che lavora a differenza anche degli altri lavoratrici sette giorni su sette e ventiquattro ore al giorno in più col sorriso e allora non vogliamo riconoscere qualcosa rompiamo il tabù e allora costruiamo le condizioni di una rivoluzione perché le proposte del popolo la famiglia sono insieme di buonsenso e rivoluzionarie lo ripeto di buonsenso e rivoluzionarie e immediatamente applicabili sono immediatamente applicabili non abbiamo costruito il libro dei sogni abbiamo detto prendiamo questo livello di consensi come dice gianfranco amato piantiamo il chiodo nella coda del serpente andiamo a fare quello che abbiamo promesso e allora costruiamola davvero questa opportunità ora fate vedere questo video a tutti i vostri amici un mi piace per difendere l'assalto degli hacker per favore e un condividi sulla vostra pagina perché è il momento di far conoscere a tutta italia la proposta del popolo della famiglia che è la proposta al fianco della famiglia naturale perché si investa sulla famiglia naturale a fianco della cultura della vita per cancellare la stagione triste necrofila e mortifera dell'aborto e dell'eutanasia per ripartire dal diritto universale a nascere per ripartire dalla capacità giuridica del concepito per ripartire dalla vita dalla vita basta non ne possiamo più di leggi di morte vogliamo il reddito di maternità per avere l'italia della vita non l'italia che pensa solo a uccidere ma l'italia che riparte dalla vita dai bambini dai figli questo è ciò che noi stiamo costruendo come prospettiva e cosa vale allora il video di qualche singolo il blog di qualche singolo contro il popolo della famiglia vi deprime questo vi deprime così poco i cattolici di questo paese ho riportato una frase del 28 febbraio del 1978 di 40 anni fa di aldomoro i cattolici di questo paese hanno pagato con la vita con le mitragliette addosso con i colpi di mitragliatore addosso la loro passione per la verità e in tutti i momenti storici quando si sono esposti sono stati colpiti dal fuoco il nostro fuoco amico e niente sono tre grigi un po' livorosi dentro a queste stanzette grigi anch'esse che soffrono e dunque attaccano sul piano personale spiegano un concetto di voto utile surreale per cui il voto utile sarebbe votare per i nemici del family day per giulia buongiorno nemica del family day per la quarta gamba zeppa di traditori del family day sostengono l'insostenibile nessuno di quei partiti propone l'abolizione della legge cerina o l'abolizione del biotestamento ma vi dicono che è responsabile votare per quelli ma è una follia è una totale follia noi dobbiamo mandare il centrosinistra all'opposizione la nostra straordinaria assemblea nazionale della sala umberto aveva lo striscione quello del family day renzi ci ricorderemo perché lo abbiamo fatto noi lo abbiamo scritto noi due anni fa e lo abbiamo riportato in sala umberto li manderemo all'opposizione batteremo emma bonino sul serio perché emma bonino si batte se il popolo della famiglia ha un risultato eclatante solo così la si batte altrimenti la bonino la trovi al governo di larghe intese perché la bonino ha fatto una legislatura col centrodestra e una col centrosinistra e quindi la ritroverete al governo delle larghe intese e a che serve aver votato per i soliti partiti aver commesso i soliti errori aver fatto lo stesso tipo di errore nel 2013 portando in parlamento parlamentari infingardi e traditori che senso ha che senso ha solo perché ad in orfe antipatico solo perché noi l'abbiamo fatto e voi non siano stati capaci a farlo solo perché c'è invidia e livore che povere motivazioni noi solo noi ora possiamo segnare il cambio di pagina è una possibilità consegnata a ciascuno di voi se ciascuno di voi da oggi e per 48 ore farà il lavoro di convincere più persone possibili a mettere semplicemente quella croce su quel simbolo è molto semplice una croce sul simbolo del popolo della famiglia è molto semplice non ci saranno oltre occasioni nel 2023 questo paese sarà stato travolto se non ci siamo noi dobbiamo esserci dobbiamo esserci in barba davvero a tutti coloro che vorrebbero vederci morti perché la finalità è che noi dobbiamo essere schiantati con l'umiliazione per questo non votata di nolfi perché di nolfi toglie i voti poi arriva ad avvenire avvenire non è certo passibile di simpatie per noi ma spiega con chiarezza che i voti a noi sono i voti che tolgono forza agli avversari al limite del centrodestra non solo spiegano bene che la bonino non ha nessuna possibilità di essere eletta nel collegio luminale di roma perché il pd sta al 20 per cento la bonino se sarà eletta sarà eletta sul proporzionale quindi vi hanno spacciato una serie di bugie totali bugie non ha nessuna possibilità non c'è nessun testa a testa il centrosinistra il collegio roma 1 arriverà ampiamente terzo ampiamente la sfida è fra centrodestra e e cinque stelle noi togliamo voti al cinque stelle quindi fate votare popolo la famiglia il più possibile vi dicono una caterva di bugie sono arrivati a prendere le mie dichiarazioni dieci anni fa pur di colpirci perché non hanno più neanche un argomento logico la logica dice che in presenza di un male minore o di un bene possibile si vota per il bene possibile ma è ovvio non devo neanche spiegarlo più è semplicissimo non è non c'è altra strada che questa fatelo sapere a più persone possibile andate ora con rinnovata forza non ascoltate la tristezza di quei tre quattro cinque sono singole persone animate da un livore perdate tempo se volete discuterci parlarci starci in chat perdete solo tempo andate dritti all'obiettivo l'obiettivo ora andare a parlare con le persone normali che capiscono da sé le persone normali e non dico neanche di parrocchia che mille euro a una mamma che fa un figlio e poterle dare dunque lo status di lavoratrice è una rivoluzione lo capiscono benissimo lo capiscono le nonne lo capiscono le zie lo capiscono le suori religiosi quella meravigliosa vicenda dei 200 oltre 200 sacerdoti religiosi e religiose che si sono schierate schierati coraggiosamente col popolo della famiglia la meravigliosa parola portata da don salvatore vitiello teologo dell'università cattolica che ha detto con chiarezza state col popolo della famiglia perché la verità non divide la verità è quella chiara cristallina portata avanti dal popolo della famiglia fate questo ignorate chi dà fastidio andate dritti alla ricerca del consenso con vigore un voto alla volta un voto alla volta uno per uno portate le persone a votare contenti di votare domenica 4 marzo votate la gente la gente non truccata ad inolfi non si trucca dice agna con le zinosca siamo in questo puri ammaccati dalle nostre ferite siamo esseri umani abbiamo sbagliato tante di quelle volte io sapeste quante tutte le accuse che vengono rivolte io non le contesto mai dico sempre sì avete ragione giudicate e avete ragione di giudicare sono assolutamente giudicabile ho fatto tanti di quegli errori ma oggi sono qui con voi in mezzo a un popolo credo di aver contribuito alla possibilità di far sì che questo popolo si potesse esprimere e sono orgoglioso di averlo fatto tutto qui orgoglioso di aver dato il mio contributo per far sì che il popolo umiliato e offeso del family day avesse l'opportunità di contare davvero allora andiamo a parlare alle persone normali adesso usciamo dai nostri circoli usciamo dalle chat usciamo da facebook andiamo a fare le chiusure di campagna elettorale poi parliamo con le persone partiamo dalla nostra agendina telefonica partiamo dai nostri conoscenti i nostri familiari e mandiamo messaggi personalizzati e convinciamo le persone una ad una un voto alla volta un voto alla volta e con una piramide di voti arriveremo fino al cielo perché siamo già a un passo dal cielo siamo già a un passo dal cielo lo sapete lo sapete da quando il 24 avete sentito salvatore vidiella avete sentito gianfranco amato avete sentito mirco de carli raffaella di nolfi fabbio torriero nicola di matteo il sottoscritto dire parole che non si erano ascoltate mai in un comizio politico andiamo a parlare alle persone dimentichiamoci i stupidi contesti del nostro triste e qualche volta ipocrita mondo andiamo a parlare davvero perché hanno bisogno di parole di speranza e abbiamo e hanno bisogno di sentire che c'è un'alternativa vera al 5 stelle ridicolo che persino facendo la lista dei ministri ombra ci ha messo denti renziani quindi inciucio massimo all'istruzione hanno messo uno che a favore della buona scuola all'interno hanno messo una che ha fatto la campagna per il sia referendum di renzi cioè sono già tutti pronti sono già tutti pronti a fare l'inciucio è l'esito a meno che non fate spuntare questo cigno nero questa pagina inattesa completamente della storia che è l'ingresso del popolo la famiglia in parlamento con 850 900 mila voti al senato un milione alla camera ce la possiamo fare è davvero dietro l'angolo l'obiettivo però ognuno di noi ognuno di 43.534 che hanno raccolto le firme in queste ore deve preoccuparsi di portare queste 20 30 persone a votare popolo della famiglia è tutto fatto poi 43.534 20 o 30 persone ciascuno e abbiamo fatto e comunque qualsiasi sia risultato il 5 marzo ricominciamo quindi chi spera di spazzare via come spera da anni di spazzare via il popolo della famiglia sappia che sta sprecando il suo tempo sta facendo brutta figura perché si dimostra livoroso rancoroso la campagna contro non premia mai anche perché illogica non si può votare il male seppure un male minore davanti alla opzione per il bene questa opzione va sostenuta e lo ripeto chi non avrà votato popolo della famiglia il 4 marzo dal 20 marzo riempirà le nostre bacheche chiedendoci scusa chiedendoci scusa di non aver fatto tutto il possibile perché il successo del popolo della famiglia fosse ancora più rotondo ancora più evidente vi verranno a chiedere scusa vergognandosi di aver sostenuto quelli che faranno giulia buongiorno ministro di grazia e giustizia e manderanno a bonino sicuramente al governo e saranno proprio quelli per cui loro hanno votato allora spiegatelo bene invece di fare questo errore e scegliere turandovi il naso andate a votare così andate a votare col sorriso con la gioia popolo della famiglia e andate a vincere e andate a vincere a vincere il vostro cuore innanzitutto scegliendo il simbolo giusto nel vostro cuore innanzitutto avrete vinto davanti alla vostra coscienza davanti ai vostri familiari guardandovi allo specchio avrete vinto invece aver scelto i traditori della quarta gamba giulia buongiorno della lega invece di aver votato per l'invotabile avrete votato per ciò che è in continuità con le battaglie di questi anni e dunque con coscienza limpida ecco il sorriso senza mai dire contro sono poveri i fratelli hanno un momento di obbonibilamento e quando ci verranno a chiedere scusa noi li accoglieremo perché il popolo della famiglia ovviamente dopo il 5 marzo come sempre accoglierà tutti coloro che vorranno dire sì avevate ragione adesso camminate insieme camminiamo insieme camminiamo insieme non manchiamo questo appuntamento con la storia è unico e irripetibile legge elettorale proporzionale sbarramento basso al 3 per cento non accadrà mai più in ogni singolo collegio d'italia c'è il simbolo il popolo e la famiglia dunque vi abbiamo messo nelle condizioni di fare semplicemente solo la scelta quella necessaria e giusta non perdete questa straordinaria occasione storica fate tutto quello che potete per arrivare a questo risultato in queste 48 ore il resto lo metterà maria col suo sguardo benevolo lo metterà il nostro signore gesù cristo noi non agitiamo i rosari noi preghiamo davvero e da anni non solo in campagna elettorale non solo a favore di telecamera noi non strumentalizziamo la fede noi sappiamo essere cristiani sempre non diciamo siamo cristiani e vogliamo sfruttamento della prostituzione da parte dello stato col papponaggio poi siccome ci hanno spiegato che funziona far vedere il rosario facciamo vedere il rosario non funziona così noi lo facciamo da anni in ogni nostro convegno è bellissimo quando arriva l'ultima volta è arrivata una bambina che aveva fatto il rosario con le sue mani per darmelo noi siamo quella cosa lì non dobbiamo dimostrarlo non dobbiamo spiegarlo noi siamo cari a dio e dunque inevitabilmente per ciascuno di noi dio è caro a noi questo è ovvio chi è che non è grato al proprio padre chi è che non lo è vi ho mandato un video un piccolo video di diario di questo incredibile periodo di campagna elettorale dove è successo di tutto troverete anche pezzi della mia vita in quei due minuti i miei ricordi ricordo di mia papà il ricordo di mia sorella morta suicida il ricordo del bello che c'è nell'essere famiglia anche nel dolore immenso che spesso è determinato dalla perdita dei cari proprio quelle esperienze sono esperienze cruciali che ti formano e ti fanno comprendere dove il bene sia e allora ti orienti faticosamente perché certe vicende certi dolori di offuscano la vista ma poi signore c'è sempre lì a prenderti per mano nel momento del mio massimo dolore e io l'ho sperimentato su di me so che il signore è misericordioso pago per gli errori compiuti e pago con gli occhi bassi non chiedo voglio fare la comunione sono un divorziato risposato viva la moris letizia vado subito a fare la comunione pretendo di far fatto degli errori gravi potevo chiedere scorciatoi e fare gli annullamenti non è da me non ce la faccio almeno per ora magari in futuro succederà ma quello che dobbiamo fare oggi è vederci allo specchio con tutti i nostri limiti con tutte le nostre fatiche con tutte le nostre ferite con tutto ciò che nella vita ciascuno di noi è mica solo a me è successo a tutti voi che siete in questo momento collegati il momento di dolore il momento di perdita di fede il momento di fatica momento in cui la famiglia è stato luogo di fatica tutti voi non ce n'è uno che può dirsi estraneo e mi racconta l'esperienza del mulino bianco tutti voi ma quel dolore quella fatica quella sofferenza insieme alla gioia la bellezza ho voluto mettere nel video anche il momento no in cui silvia agita il test di gravidanza e dice che arriva un altro adirolfino il nostro fagiolino come diciamo a riempire la famiglia tutto questo è il momento in cui c'è un'occasione bella di riscatto collettivo perché non c'è niente di più bello di fare le cose insieme amici insieme roberto dice la nostra bambina è stata quella che ti ha fatto il rosario era felicissima la figlia di roberto mi ha fatto questo rosario la bambina che me l'ha consegnato io mi sono commosso perché vedere una bambina che può benissimo per si va essere annoiata di venire a un convegno che ha ragioni politiche invece è arrivata con un dono ecco regaliamoci questo dono un po tutti facciamo felici i nostri figli andiamo a votare orgogliosi spieghiamo loro che lo stiamo facendo per coloro che verranno e ricordiamo il nostro essere stati figli il nostro essere stati figli lo voglio dire davvero a ciascuno di voi siamo stati figli noi rendiamo orgogliosi i nostri genitori del percorso che abbiamo svolto rendiamo orgoglioso dio padre del percorso che abbiamo svolto con coraggio spess contra spam con coraggio cristiano vi ringrazio davvero per tutto il modo con cui siete stati testuggine accanto a me proteggendomi dagli attacchi feroci che ho dovuto subire vi ringrazio che siete stati fratelli e sorelle a fianco proteggendomi con lo scudo sopra lo scudo davanti io spero di aver fatto lo stesso per voi adesso popolo della famiglia andiamo a prendere ciò che è giusto il consenso che è giusto che noi abbiamo il 4 marzo andiamo a conquistare voto per voto e poi festeggiamo insieme ringraziando il signore nostro gesù cristo io vi voglio bene questa è la cosa che volevo dire più di tutto in questo video vi voglio bene vi ringrazio è stato un onore per me servire in questa campagna elettorale un grande popolo come il popolo della famiglia è stato un grande onore grazie davvero di me lo concesso e adesso come sempre in battaglia perché lo sappiamo abbiamo detto a noi la battaglia non a noi la partita burraco sappiamo che è complicato faticoso doloroso ne esce fuori un po' di sangue un po' di fango ma abbiamo detto a noi la battaglia perché sia per dio la vittoria da maria di nolfi buona fine campagna elettorale a tutti voi buon voto il 4 marzo votate fate votare popolo della famiglia